Si è preso direttamente invece all'interno di un percorso, quindi riusciremo a fare anche questo si pensa entro febbraio. Poi l'altro aspetto che non vorrei anticipare di tanto è che però attraverso i nostri incontri è emersa l'esigenza di rendere accessibile Sant'Orsola e quindi la possibilità anche di poter aprire certi spazi. Quindi noi abbiamo detto che per noi non c'è nessun problema di aprire certi spazi a prendere in sicurezza quindi per esempio dalla visita di oggi, anticipo un po' il ragionamento, dalla visita di oggi potrebbe nascere anche l'idea di poter aprire certi spazi, chiaramente si parla sempre degli spazi a piano terreno perché sono quelli più accessivi, che messi in sicurezza potrebbero essere utilizzati per fare una serie di eventi, poi dovremmo trovarne comunque le modalità però in attesa che ci siano sviluppi diversi anche questo è un percorso che potremmo fare insieme e che anche all'interno dell'ultima riunione ne abbiamo parlato insieme e la possibilità di fare questo.